Sabato nella Baia del Sole, la Igueglia sulla spiaggia a fronte Corso Badarò torna un'originale manifestazione ludico-sportiva sci di fondo On The Beach 2019 che compie 10 anni a sfidarsi sulla sabbia 16 squadre provenienti da diverse località sciistiche, anche se non mancheranno quelle locali, pronte a difendere il territorio. La novità di quest'anno è la walking balance, una disciplina rivolta oltre che a una corretta impostazione della camminata, alla cura dello stile di vita più in generale. Stelle e campioni dello sci di fondo saranno presenti anche per questa edizione, già confermati Pietro Dutto, biatleta della Nazionale Italiana, Alessandra Merlina, ex sciatrice alpina, vincitrice di una Coppa del Mondo di Carving. Il programma prevede alle 9.30 l'apertura del villaggio, alle 10 walking balance, alle 11 gare di sci di fondo On The Beach, alle 13 tuffo in mare e nel pomeriggio ancora gare dalle 14.30 alle 16.30, poi le premiazioni. La manifestazione è organizzata dalla Eccoce 20 di Alassio e avrà anche uno scopo benefico con la raccolta fondi a favore della fondazione AIR che parla ricerca sul cancro.